Inaugurato a Pineto il Geoparco Vulcanello Cenerone, situato a Borgo Santa Maria a due passi dall'ingresso autostradale. Si tratta di un sito dal quale furiesce Acqua Salmastra, che ha pochi simili in Italia. Una riqualificazione importante che rappresenta anche un'attrattiva a livello nazionale. Sono siti che presentano delle particolarità geologiche interessanti, rare, e che quindi si prestano non solo alle osservazioni scientifiche, ma anche a soddisfare la curiosità degli abruzzesi e dei non abruzzesi che visitano questi luoghi. Qui le forze della natura praticamente stanno lentamente facendo uscire dal sottosuolo degli idrocarburi e anche dell'acqua salata. Si formano quindi in superficie dei piccoli vulcani, non sono vulcani caldi, l'acqua è fredda. Però sono manifestazioni interessanti perché in questo caso si può vedere la natura attiva in un periodo di tempo breve. Normalmente i fenomeni geologici sono lenti, sono impercettibili. Invece questo è visibile. Tra l'altro forma poi intorno al vulcanello una zonazione, una disposizione delle piante molto particolari. Sono anche piante in grado di resistere a un ambiente ostile, quindi da esse possiamo imparare molte cose. Soprattutto i giovani possono venire qui e vedere come la natura piano piano costituisce un ambiente vivibile per alcune specie che altrimenti non potrebbero sopravvivere. Questa era una zona che era stata coltivata, il vulcanello stesso era stato drenato, quindi era stato quasi ucciso, privato della sua linfa vitale. Adesso invece tutta questa opera dell'uomo è stata eliminata e quindi stiamo dando spazio alla natura, naturalmente in uno spazio piccolo che consenta anche le osservazioni. La cosa interessante sarà proprio questa, venire qui di tanto in tanto per vedere i progressi che sta facendo il vulcanello, come crescerà in altezza e in lunghezza e come in qualche modo riuscirà anche a favorire la vegetazione circostante, che ripeto è molto particolare, c'è solo qui.